Come sarei vestita come un manichino? Me lo sono sempre chiesta e oggi ho deciso di verificarlo da Primark Tra i tantissimi manichini che c'erano ho scelto quelli che mi attiravano di più e adesso vediamo un po' il risultato Il primo look che ho deciso di copiare è questo, secondo me perfetto per questa stagione siccome la sera comincia a fare freschino Dopodiché sono uscita un po' dalla mia comfort zone con questo secondo look, sono innamorata della gonda Infine abbiamo un look da notte e questo devo dire che è il mio preferito Probabilmente da sola non avrei mai abbinato un corsetto o un pigiama e per questo devo ringraziare il manichino Fatemi sapere nei commenti quale fra i tre look avete preferito